L'ordinanza è di qualche giorno fa, infatti reca la data del 17 settembre 2021. Il Consiglio di Stato viene chiamato a risprimersi su questa ordinanza cautelare dopo che il Tar, in prima battuta, aveva rigettato la richiesta cautelare dei ricorrenti. Qual è il tema che tratta e perché è attuale? Chiaramente la prima questione importante è proprio questa, il tema che tratta il famoso DPCM del 17 giugno 2021 che contiene disposizioni attuative dell'articolo 9,10 del famoso decreto, anche questo, numero 52 del 2021, il tema del Green Pass. Infatti quel DPCM fa riferimento al sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell'infezione SARS-CoV-2, eccetera, eccetera, ma soprattutto il tema che si tratta è l'impiego della certificazione verde, appunto Covid-19. La richiesta che viene fatta al Consiglio di Stato è di integrare sospensione dell'efficacia del decreto, del DPCM del 17 giugno. I giudici di Palazzo Spada esaminano la faccenda e affermano che, considerato che gli appellanti lamentano, che cosa? Tre cose fondamentalmente. La lesione del loro diritto alla riservatezza sanitaria. Quindi il primo aspetto che viene contestato, che potrebbe far scaturire la possibilità, quindi che possa essere sospeso all'efficacia di questo decreto, è il fatto che vi sia un'eressione al diritto della riservatezza sanitaria. La seconda questione che viene sollevata è il rischio di discriminazione nello svolgimento dell'attività lavorativa, perché sarebbero quindi condizionate dal possesso di questa certificazione verde, appunto il Green Pass. Il terzo elemento che potrebbe determinare un rischio è il pregiudizio economico, che deriva dalla necessità di sottoporsi costantemente a frequenti tamponi. Gli appellanti, si afferma nell'ordinanza, sostengono il contrasto dell'impugnato di PCM, nonché della normativa primaria su cui esso si basa, con la disciplina dell'Unione Europea e con la Costituzione Italiana. Sono temi attuali, sono temi che abbiamo affrontato in chissà quali conversazioni, anche sui social, quindi riconosciamo benissimo, e vediamo qual è la conclusione a cui giunge il Consiglio di Stato, anche se non dimentichiamo che questa è un'ordinanza cautelare. Però vediamo che i temi sono trattati. Ebbene, qui si afferma che la pronuncia cautelare di rigetto, che è adottata in primo grado, merita di essere integralmente confermata. Quindi qui sappiamo subito, conosciamo l'esito di questa ordinanza, che conferma il rigetto già espresso con la prima ordinanza. Perché non esiste il periculum immora, fondamentalmente. Infatti non esistono i requisiti di gravità e irreparabilità. Perché? Ed è interessante questa comparazione di due rischi. Da un lato il prospettato rischio di compromissione della sicurezza del trattamento dei dati sensibili, e quindi è uno dei rischi che è prospettato per poter chiedere il... ecco qui, ce la farò, ce la farò, sì. La sospensione del provvedimento. Quindi questo rischio che riguarda la sicurezza del trattamento dei dati sarebbe connesso alla implementazione del Green Pass. Questo rischio, dice il Consiglio di Stato, ha un carattere meramente potenziale. potenziale, non potendo ritenersi insito ai presenti fini o per la sua astrattezza nella qualificazione come attività pericolosa del trattamento dei dati. Quindi dice, sì, è un rischio potenziale, non è un rischio evidente, non è un'attività che si manifesta in maniera palesemente pericolosa. Inoltre, afferma sempre in questa ordinanza, gli appellanti dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino non subiscono lesioni, loro sono contrari, quindi non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza, in ordine alla scelta compita, nel momento che l'attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione. Quindi, tutto sommato, voi però, siccome non vi vaccinate, in verità, semplicemente non sappiamo che siete vaccinati. Anzi, in verità, è il contrario. Noi conosciamo quelli che lo sono e non conosciamo il contrario. Infatti, dice, la vaccinazione o la attestazione della negatività al virus. Peraltro, fa un'altra affermazione che è importante, in ogni caso, eventuali, concrete e effettive lessioni future del diritto alla riservatezza sanitaria possono essere poi, a loro volta, portate nelle serie opportune. L'ordinanza rileva inoltre che il DPCM non è altro che uno strumento di regolamentazione tecnica di questo ben detto Green Pass in attuazione della disposizione normativa delegante, in questo caso, ad articolo 9 del DL, come 10, del DL 52 del 2021. Quindi non c'è una prevaricazione in questo senso. Ma il DPCM è attuativo del decreto legge. E, peraltro, quella regolamentazione è estranea ai contenuti regolatori che riguardano le attività sociali, economiche, lavorative, realizzabili dei soggetti vaccinati o in possesso di un'attestazione di negatività al virus, a cui gli appellanti fanno riferimento e a cui riconnettono gli effetti discriminatori, che sono propri di atti aventi forza di legge. Infatti ci fa riferimento al decreto legge, al decreto legge 105 del 2021-111 e dice poi, il Consiglio di Stato, la cui cognizione, la cui compatibilità con la Costituzione e l'Unione comunque non può essere sottoposta a un giudice amministrativo in sede cautelare, ma nelle sedi opportune. Ancora avanti, i giudici affermano che in qualche modo non rilevano il pregiudizio individualmente subito dagli appellanti e non si comprende, dicono, quale sia questo effetto indirettamente coercitivo nei riguardi della sottoposizione alla somministrazione vaccinale o al ripetuto test di negatività, che sarebbe asseritamente riconducibile alle norme che limitano ai soli soggetti vaccinati lo svolgimento delle mie attività, non essendo, afferma sempre qui l'ordinanza, chiarito quali tra queste attività sarebbero preclusi agli appellanti non vaccinati o privi di attestazione di negatività al virus. Per poterne comprendere, valutare la grevità e l'irreparabilità del relativo ipotetico pregiudizio. Questa frase è interessante perché, in qualche modo però, se viene attualizzata a una lettura diversa, qui sembra dire apertamente, tutto sommato però non c'è un problema, non si comprende quali siano le attività che sono precluse a chi non ha la certificazione verde. E' evidenziato infine, con riferimento al piano abbruttativo, del periculum in mora, inteso soppesare, ecco questo è importante, comparativamente il danno lamentato dai ricorrenti con un altro danno, che è il depotenziamento degli strumenti destinati ad operare in modo coordinato anche al fine di garantire l'efficacia sul piano della regolazione delle interazioni sociali. E' vero, è probabile che ci possa essere un potenziare danno alla riservatezza o se vogliamo un eventuale limite all'attività lavorativa. Certo è che dall'altra parte, però il rischio che si può determinare da dove si volesse sospendere l'efficacia del DPCM è quello di depotenziare gli strumenti regolativi determinando un vuoto regolativo, che causerebbe delle conseguenze che non sono prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini e quindi sono ritenute comunque gravi. La grande maggioranza dei quali peraltro ha aderito alla proposta vaccinale. Ci sarebbe come dire, beh insomma la maggioranza non si lamenta, ha aderito, conseguentemente non si comprende e sarebbe un rischio per la maggioranza se si accogliesse in sede cautelare, siamo ancora, quindi la richiesta di questi ricorrenti. Considerato inoltre che proprio la graduale estensione della certificazione verde ha oggettivamente accelerato il percorso di riapertura delle attività economiche, sociali e istituzionali, cosa fa? Ed è l'aspetto più interessante di questa ordinanza, a parte le considerazioni che abbiamo già lette, richiama e conferma, quindi lo fa il Consiglio di Stato con questa ordinanza, le ragioni che sono trascritte infatti con le pare il Presidente della sezione con decreto eccetera eccetera ha respinto l'appello proposto dagli appellanti contro il decreto, quindi in prima istanza. E sono queste le affermazioni, sono molto interessanti. Ritenuto che l'istanza cautelare per quanto gli è ammissibile non è tuttavia fondata, quindi è ammissibile ma non è fondata, non è fondata. Perché? Primo, le contestate prescrizioni del DPCM impugnato trovano copertura di fonte primaria nel decreto legge 52 2021. E questo abbiamo visto prima. Secondo, le prescrizioni stabilite al garante per la riservatezza sono applicate, quindi mantengono l'efficacia anche nei confronti delle misure applicative di copertura dell'autorità sanitaria nazionale, a cui spetta il coordinamento. Ancora, il Green Pass rientra in un ambito di misure concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili. E questo è forte perché i ricorrenti contestano proprio che questo Green Pass violerebbe la normativa europea. Risponde in questo caso il giugio di primo grado, ripeto sempre in sede cautelare, che non è così, perché il Green Pass rientra nelle misure coordinate e definite a livello europeo. Peraltro mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale per consentire la fruizione dell'opportunità di spostamenti e viaggi di sicurezza riducendo i controlli. Ancora, per finire, che la generica affermazione degli appellanti secondo cui allo stato delle conoscenze scientifiche non vi sarebbe una piena immunizzazione e quindi si creerebbe un lasciapassare falso di immunità, si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi secondo cui sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti-Covid a fronte di diffuse campagne vaccinali. Insomma, come sappiamo, a questo punto il Consiglio di Stato respinge l'appello cautelare e vedremo come questa decisione sarà presa in esame poi ecco qui nel merito.